Secondo Russo, dall'inizio degli anni 70 ad oggi il discorso pubblico è stato appunto contrassegnato da un'ossessione, un'ossessione di quel passato che viene utilizzato per difendere gli interessi di parte all'interno della confinabilità politica. Come noto nel volume collettario Russo pubblico della storia, per poi alcuni dei contributi di interventi di studiosi riuniti nel 93 in occasione di un convegno organizzato dell'Asifa, Nicola Dellerano rintracce le motivazioni all'origine del successo della sintesi egoista. E cosa ci dice? Ci dice che la prima ragione è la continuità, della continuità, perché dopo guerra in Francia il sistema partitico pre-vermico si impose sulla recente tradizione resistenziale. Dunque, contrariamente a Italia e Germania, dove la resistenza e l'anti-nazismo furono i carissari su cui trasse fondamenti il nuovo sistema partitico, in Francia si riscontra, sempre che secondo Dellerano, una continuità tra la pre-guerra e il dopo-guerra. Il secondo motivo individuato è il carattere del resistenzialismo gollista. Per De Gaulle la resistenza è proprio l'unione di Sanque, no? Scrive Dellerano, è la Francia terre, è una resistenza senza resistenti, una scazione. Di conseguenza, appunto, la stagione di Vichy venne confinata nel obbligo, come se non fosse mai esistente. Dunque, il resistenzialismo gollista esorcizzò Vichy, proprio dal momento che intese rappresentare tutti i francesi, senza distinzione di sorta, proprio nel tentativo di annullare le divisioni degli anni della guerra. E, evidentemente, gli storici contro cui erano da valorare la strategia di autista. La prima storia di Vichy, nel 1954, con la firma di Robert Amon e il suo armi di Vichy, nel 1940-1944, non fece che sottovalutare la portata del collaborazionismo con il nazionismo. Assegnando, proprio, la Germania gleriana, la risponde tutta e tutta la responsabilità dei crimini, quindi, di guerra e delle deportazioni degli ebrei.